Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. E' quasi certamente di origine dolosa l'incendio divampato intorno alle 7 a Napoli in un'area fino a due anni fa occupata da un campo rom e oggi ridotta in discarica. Tre i focolai rilevati da vigili del fuoco e dalla polizia municipale accorsi al parco della Marinella ad andare in fumo copertoni, sterpaglie, le fiamme si sono levate alte e l'odore è stato intenso. Questo tuttavia si apprende dalla direzione sanitaria, nessuno ha dovuto far ricorso al cura dei sanitari. Un incendio di vaste proporzioni è divampato alle 7 di stamani a Napoli nell'ex campo Roma in prossimità del parco Marinella a via Merigo Vespucci ad andare in fumo nell'area che è una sorta di discarica a cielo aperto. Copertoni, gomme, masserizze varie non si registrano danni per le persone sul posto allertati dalla segnalazione di un passante. Si sono recati i vigili del fuoco di Napoli con 7 mezzi. L'opera di spegnimento del rogo, le cui cause sono ancora da accertare, è tuttora in corso. Disagi per i residenti con una colonna di fumo ben visibile anche da lontano e aria assolutamente irrespirabile anche a qualche chilometro di distanza. L'area dell'incendio si trova poco distante dall'ospedale Loreto Mare, uno dei più grandi affollati del capoluogo e anche zona dell'ex mercato della pesce. Paura dunque per le persone che hanno assistito alla scena. È un incendio, diciamo, curioso che avviene il giorno prima dell'inizio dei lavori di pulizia e bonifica dell'area in cui dovrà sorgere il parco della Marinella, così il sindaco facenti funzioni, Tommaso Sodano. L'amministrazione, dice Sodano, procederà comunque sulla strada tracciata, ovvero la realizzazione di quel parco che da anni i cittadini attendono. Appare però indispensabile ricostruire la vicenda per comprendere lo sforzo messo in campo rispetto ad un'area comunque demaniale. Attende tutte le varie decisioni con la certezza che questa vicenda finirà bene. Il sindaco di Napoli, sospeso Luigi De Magistris, ha 48 ore dall'udienza del TAR, che deciderà in merito al ricorso da lui presentato contro la sospensione dalle funzioni a seguito della sentenza di condanna per l'inchiesta Why Not. Verrò, ha detto De Magistris, completamente riabilitato anche sul piano formale perché ho subito una grave ingiustizia, che devono essere le istituzioni a risanare e mi auguro che ciò avvenga nel più breve tempo possibile. De Magistris ha inoltre sottolineato che anche se reintegrato nelle funzioni, continuerà ad essere sindaco di strada perché fa bene alla città e anche a se stesso. Sono un collaboratore di giustizia e ci vedo molto bene, lo ha detto Giuseppe Setola, collegato in medioconferenza al processo che vede imputato, alla Tribunale di Santa Maria Capo a Vetere, l'oculista di Pavia Aldo Fronterre, per concorso esterno in associazione camorristica. Oggi dovevano essere sentiti sette consulenti tecnici della direzione estetuale antimafia, ma l'APM ha spiegato che c'è stato un disguido di notifiche e i testi non sono stati avvisati. L'udienza è stata rinviata dunque alla 24 novembre prossimo. Per la direzione estetuale antimafia Fronterre avrebbe fornito a Setola certificati che attestavano falsamente la presenza di gravi problemi agli occhi e che gli permisero a inizio del 2008 di ottenere i domiciliari nella clinica di Pavia in cui Fronterre lavorava e da cui fuggì il 18 aprile, iniziando pochi giorni dopo la stagione del terrore nel casertano Costata, 18 vittime, tra cui l'imprenditore Domenico Noviello e 6 immigrati africani. Uno sportello anti-usura e anti-racket nel quartiere collinare nella zona dell'Arenella. Aperto in collina lo sportello anti-racket e anti-usura, la parola chiave è sporsi. È stato detto nel corso della presentazione nella municipalità aggredita economicamente da clan che investono e riciclano in attività legali. Tocca al Comune e alla municipalità a mettere la faccia, ha detto il Presidente della Municipalità, Mario Coppeto, dello stesso avviso il Presidente della Commissione anti-racket Felaco. Dopo un lungo lavoro è nata dal basso la prima associazione anti-racket formata tra esercenti del quartiere intitolata Maurizio Estate. Iniziativa importante anche per i giovani che vogliono apparire una realtà imprenditoriale e così l'assessore alle politiche giovanili Alessandra Clemente. Un'iniziativa importante perché oggi insieme diamo un luogo a un problema, un problema che stritola soprattutto i più giovani, quello dell'usura, ma anche la pressione criminale nei nostri territori. Se noi abbiamo il sogno di iniziare un'attività imprenditoriale, un'attività commerciale, abbiamo un disagio ambientale più forte per i territori macchiati dalla criminalità e dalla presenza della camorra, ma anche l'usura e il prestito di denaro. Oggi grazie alla Municipalità apre un luogo, una stanza di ascolto che sarà uno sportello H24 per poter dare una vera e propria task force protettiva nei confronti di chi ha bisogno. Per combattere questo fenomeno che distrugge l'economia c'è bisogno della collaborazione di tutti, come sottolinea Franco Malvano, commissario antiracket della Regione Campania. Sì, la Regione Campania ha finanziato 30 progetti antiracket e antiusura. Io li sto seguendo, sto seguendo, diciamo l'attuazione come commissario regionale antiracket. Sono progetti finanziati e che prevedono un'erogazione di risorse pari a circa 40.000 euro e si sviluppano su vari punti. Il primo è l'apertura di uno sportello che è un riferimento per i cittadini che sono potenziali vittime o vittime del racket e dell'usura. 200 lavoratori della Jabil di Marcianise hanno manifestato nei pressi del casello di Caserta Sud per chiedere un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico e affrontare il tema dei 380 licenziamenti chiesti dall'azienda. I dipendenti, dopo aver bloccato il casello per un quarto d'ora, si sono spostati all'uscita dello svincolo. Il traffico nella zona è andato in tilta. E ancora una protesta. Momenti di tensione si sono registrati invece davanti a cancelli della nuova Sinter di Arzano. all'arrivo dei delegati dell'ufficiale giudiziario che avevano il compito di apporre i sigilli ai reparti e all'attrezzatura della fabbrica. Gli operai in assemblea permanente dal 6 ottobre contro la decisione dell'azienda e con l'occupazione dei tetti hanno prima cercato di chiudere un accesso laterale per evitare l'ingresso delle auto con a bordo i delegati e poi hanno gridato slogan e invettive contro i due rappresentanti della curatela che sono entrati in fabbrica per apporre i sigilli. Camisce bianche, fumogene, tricolori e lo slogan ripetuto casa e lavoro prima gli italiani così un centinaio di aderenti a Forza Nuova manifestato a Napoli con un presidio sabato scorso in piazza Carlo Terzo contro l'immigrazione selvaggia e per la difesa delle frontiere nell'ambito di una giornata di mobilitazione che si è svolta anche Bergamo, Ancona e Palermo. Dura la polemica con il sindaco sospeso De Magistris. Non siamo neonazisti e non centriamo niente con l'aggressione di Ciro Esposito. Il presidio di Forza Nuova ha provocato la contromobilitazione dei centri sociali che hanno improvvisato un corteo non autorizzato in piazza Garibaldi invitando gli immigrati ad unirsi al loro grido siamo tutti antifascisti. Il corteo è giunto fino a circa 300 metri da piazza Carlo Terzo dove militanti di Forza Nuova però non erano ancora arrivati e poi è stato bloccato da un forte schieramento di carabinieri baschi verdi della finanza e poliziotti in assetto antisommossa. Bloccati tutti gli accessi alla piazza troppo forte il divario di forze con i manifestanti di estrema sinistra un centinaio anche loro che si sono limitati a scandire slogan duri. Qualche momento di tensioni anche al termine del presidio di Forza Nuova quando i manifestanti si sono mossi dai giardini del centro di piazza Carlo Terzo verso il corso Garibaldi. Le forze dell'ordine si sono schierate con Scudie e Manganelli ma il confronto fisico è stato fortunatamente evitato dopo un accenno di blocco stradale. Il Partito Pensionati d'Europa è sceso in piazza per affermare i propri diritti e un corteo per le strade del Vomero per richiamare l'attenzione delle istituzioni e tenere in considerazione i diritti e le condizioni di una larga fetta di popolazione italiana come quella dei pensionati. Il Partito Pensionati d'Europa scende in piazza per affermare i propri diritti un corteo che da Piazza degli Artisti è arrivato in Piazza Manvitelli al Vomero con bandiere e cartelli per richiamare l'attenzione delle istituzioni a tenere in considerazione i diritti e le condizioni di una larga fetta di popolazione italiana come quella dei pensionati così Fortunato Sommella, segretario nazionale del Partito Pensionati d'Europa. Noi abbiamo verificato e purtroppo siamo molto rammaricati che nell'agenda di questo governo non esista la parola pensionati così come non esiste nell'agenda degli altri partiti che vanno per la maggiore cioè non è possibile che i partiti tradizionali dimentichino di trattare la realtà dei pensionati 20 milioni di italiani abbandonati a loro stessi ecco perché noi insistiamo, scendiamo in piazza per dire agli italiani per dire ai partiti tradizionali, per dire a questo Stato che ormai è diventato patrimonio di Grillo, Berlusconi e Renzi la dovete smettere, dovete pensare che in Italia esiste una realtà che si chiama pensionati che hanno fatto diventare l'Italia grande così come lo è e come è potuto essere addirittura considerata settima potenza mondiale Un medico 56enne della 118 in servizio dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli è stato aggredito da un sessantenne del luogo che era stato portato al pronto soccorso da un'ambulanza del 118 per presunti sintomi di infarto e si lamentava di non aver ricevuto una bottiglia d'acqua durante il trasporto in ospedale Nello stesso ospedale il medico è stato curato per trauma contusivo facciale e ne avrà per 20 giorni sul posto sono intervenuti i carabinieri di Licora Lo Stato si è finalmente mosso per individuare regole contabili uniformi e riclassificare i dati contabili e di bilancio degli enti locali che dovranno adottare schemi comuni articolati in missioni e programmi secondo le regole della contabilità nazionale e le norme europee Nel 2015 partirà una riforma tanto attesa quanto utile che introduce anche un nuovo sistema di indicatori di risultato costruiti secondo metodologie comuni Lo ha detto Vincenzo Moretta, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli nel corso del seminario L'Armonizzazione Contabile degli Enti Locali le novità della manovra estiva organizzato dalla Commissione di Studio degli Enti Locali e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti con la partecipazione del Lanci Campania Attraverso la Commissione Enti Locali del nostro ordine e con varie istituzioni presenti sicuramente si affronterà il tema di uniformare un po' le procedure che si trovano all'interno degli enti spesso è difficile perché in ogni ente che vai trovi procedure diverse, organizzazioni contabili diverse e quindi noi commercialisti, noi professionisti abbiamo delle grandi difficoltà a rendere omogeneo ciò che ha lo Stato è assolutamente ed erogeneo, molto diverso quindi credo che noi continuiamo la nostra strada continuiamo il nostro percorso di specializzazione e di essere sempre più preparati e competenti certamente chiediamo al Governo una maggiore attenzione e sicuramente come dice Renzi, su questo io sono d'accordo che assolutamente i tagli non devono toccare la qualità ma soltanto gli sprechi Salvatore Variale del Dipartimento delle Risorse Finanziarie della Giunta Regionale Campania ha detto che in materia fiscale è stato toccato il fondo non è possibile che ci siano situazioni ancora peggiorative bisogna ora pensare a risalire la china perché ormai abbiamo raggiunto il livello massimo di imposizioni fiscali e l'amministrazione regionale sta lavorando in una direzione diversa cioè quella di fare in modo che almeno per il 2015 una parte del premio fiscale possa essere ridotto La accordata guidata dall'impresa di Mario Schiano azienda impegnata nella produzione e vendita di biciclette con sede a Fratta Minore ha ufficialmente rilevato il Parco Giochi e dell'Andia di Napoli il contratto di locazione è stato firmato alla Mossa d'Oltremare con la nuova società riabilitando le dell'Andia ha detto l'imprenditore Schiano bisogna cercare di dare un contributo alla città e quindi l'Ede dell'Andia sicuramente è un punto importante è un luogo simbolo della nostra città Gennaro il sangue di un popolo Gennaro il sangue di un popolo l'Università degli Studi su Rorso Rabbeni Casa ha dato vita ad un convegno sulla figura del Santo Patrono di Napoli affrontando tematiche quali l'arte la storia sociale e la spiritualità del Vescovo di Benevento che nel corso dei secoli mediante il prodigio della liquefazione del suo sangue ha rappresentato e rappresenta l'identità del popolo napoletano e la sua particolare fede nell'intervento divino nella storia dell'uomo le conclusioni sono state affidate al cardinale Crescenzo Sepe arcivescovo di Napoli che ha spiegato l'importanza dell'evento e ha ricordato le abbertificazioni di Papa Paolo VI figura fondamentale nel suo cammino vocazionale in quello della Chiesa del Novecento e nella Chiesa Catedrale l'ordinanza diaconale di nove giovani seminaristi destinati a diventare sacerdoti il prossimo anno provenienti da diverse parrocchie del territorio i loro nomi sono Ciro Alario, Giorgio Fabbro, Lorenzo Fedele, Aldo Landolfi, Marco Matteo, Francesco Padulano, Giovanni Sannino, Fulvio Stanco, Vincenzo Vitiello Beh, credo che sia fondamentale per cui l'abbiamo messo come progetto tra le varie iniziative che abbiamo iniziato a fare in occasione della festa di San Gennaro come un'iniziativa forse la più importante e che spero poi possa continuare anche nei prossimi anni Carlo Ciliberto, mio marito, è il libro di Dora Celeste Amato edito da Roggiosi che l'autrice ha scritto per raccontare cosa ha rappresentato per lei l'uomo Ciliberto che invita furrettore all'Università di Napoli Federico II il testo è stato presentato in un incontro promosso dalla Quinta Municipalità Carlo Ciliberto, mio marito, è il libro di Dora Celeste Amato edito da Roggiosi che l'autrice ha scritto per raccontare cosa ha rappresentato per lei l'uomo Ciliberto durante la loro vita passata insieme il testo è stato presentato durante un incontro promosso dalla Quinta Municipalità e dalla Fondazione Humaniter nell'occasione gli organizzatori hanno ricordato Ciliberto in occasione del decennale della sua morte come uomo e come rettore dell'Università di Napoli Federico II attraverso il racconto di amici e colleghi così l'autrice di Carlo Ciliberto, mio marito, Dora Celeste Amato hanno detto in questi anni, a parte dal 90, l'anno in cui io l'ho conosciuto o perlomeno l'anno in cui abbiamo deciso di sposarci perché l'avevo conosciuto due anni prima intervistandolo da allora hanno detto, scritto, fatto convegni sull'uomo, sullo scienziato io ho desiderato in questi anni, in dieci, da quando lui non c'è più di ricordarne tutta la sua semplicità, la sua democrazia il suo voler imparare ogni giorno, ecco perché oltre alle cariche l'uomo Qual è il ricordo più importante che lei ha scritto nel libro? Non c'è assolutamente una priorità ogni riga è importante perché ogni attimo corrisponde a un'emozione a una costruzione, a cercare di crescere anche se avevamo una grande differenza di età, crescere insieme Un finale da brividi per Inter-Napoli Emozioni e gol per una sfida tesa e nervosa all'ultima spiaggia ma sa che ulteriori passi falsi non sarebbero perdonati Anche Benitez non naviga in acque tranquille due allenatori in difficoltà che affrontano il loro passato per riuscire ad esorcizzarlo e due diverse storie identica invece l'accoglienza che ricevano da San Siro fischi sonori quando lo speaker pronuncia i loro nomi In tribuna Moratti e Toir, il presidente poco prima del fischio d'inizio ribadisce la propria fiducia al tecnico toscano ricordandoli però l'obbligo di centrare obiettivo Champions L'Inter, reduce da più di una merezza, deve rinunciare a Nagatomo Mazzarri chiama Obi in avanti Palacio e Icardi Benitez risponde con Iguain in signe Amsic-Kaleon Il primo tempo si apre tra cori antinapoletani e i primi richiami i nero-azzurri inizialmente surclassano Napoli in colore e sotto tono senza guizzi né fantasia L'Inter fa la partita e coglie nitide occasioni da gol con Icardi e colpisce un palo con Hernanes Nel complesso i nero-azzurri lottano e finalmente si attengono alle indicazioni di Mazzarri Senza cravatta e nervoso come sempre Al quinto subito Obi in evidenza con un bel sinistro Poco dopo anche Hernanes cerca il colpo della distanza Il Napoli resta a guardare e subisce l'iniziativa Ad i nero-azzurri si fa trovare sempre preparato e in ritardo su ogni pallone Al diciottesimo Icardi avrebbe la palla Dell'1-0 Malbjor gli nega la gioia del gol Al ventiquattresimo ancora l'argentino di testa spedisce al lato I partenopei sono pericolosi con un tiro al volo di Amsic Poco o nulla per il resto L'Inter è sfortunata, domina ma non trova il gol Correnares che colpisce il paro al trentanovesimo Nel secondo tempo il Napoli cambia atteggiamento si scuote e grazie all'inserimento di Mertens reagisce e cambia la partita Subito insegna e colpisce il palo L'Inter risponde con Vidic di testa ma la squadra gira intorno a Kovacic e a Hernanes che torna a fare il profeta in campo L'Inter non si demoralizza ma Zari butta Guarin nella mischia al posto di Medel e proprio lui firma il pari Al trentasettesimo l'allenatore nero-azzurro si fa espellere Iguain potrebbe portare il Napoli in vantaggio ma salva Vidic riscattando in parte una prova non brillante Al quarantatresimo doccia scozzese per l'Inter Caléon va ancora in gol con un bel destro al volo La partita non è finita e ancora una volta Napoli si fa raggiungere cross di Dodò per la testa di Hernanes Inter e Napoli hanno molto da lavorare i partenopei pagano un primo tempo davvero da dimenticare mentre i nero-azzurri continuano ad avere pericolose distrazioni difensive l'uomo chiave è sempre Kovacic Qualche miglioramento c'è anche se la svolta deve ancora arrivare e alla fine è un buon punto per entrambe le squadre Benitez e Mazzardi possono rifiatare È tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci